Ciao ragazze, allora faccio questo video molto veloce, giusto per dirvi due cose, per parlare un po' se mi sentite parlare in modo strano è perché mi stava scendo il dente del giudizio e fa male cane, quindi magari parlerò un po', avrò qualche difficoltà a parlare comunque sono molto molto contenta perché tra qualche giorno, come sapete, a Bologna ci sarà il Cosmoprof io non ci sono mai stata, quindi per me è la prima volta, sono troppo contenta perché secondo me sarà molto carino mia sorella è andata l'anno scorso, quindi mi ha un po' descritto, so che ci sono tantissimi stand con un sacco di trucchi, tante marche e quindi non vedo l'ora che sia domenica per andare a vedere un po' e girare un po', ci sarà anche mia sorella e i nostri fidanzati purtroppo per loro perché, poverini, sono disperati perché comunque ci smette un po' a girarla, credo io ci sarò domenica, non credo proprio sabato perché vado giù a Bologna venerdì venerdì, ok, ce la posso fare e sabato penso che avrò altre cose da fare sempre lì a Bologna invece domenica ci starò al Cosmoprof e sono contentissima, non vedo l'ora, veramente io cedo una settimana anche dico, ok, mancano 7 giorni, mancano 6, meno 5, meno 4 quindi sono veramente contenta tra l'altro mi hanno detto che posso fare un video che posso registrare tranquillamente ad andare in giro con la telecamerina, così magari anche per chi di voi non può venire perché magari si trova molto lontano se vi fa piacere insomma c'è questo video io mi diverso tantissimo a girare con la telecamera quindi sarà divertente anche se credo che lascerò la telecamera a mio fidanzato io andrò in giro a topicare, a guardare un po' ok, già che ci sono volevo farvi vedere un articolo, o meglio un tutorial che avevo fatto per questa rivista Maya Fox per il mese di febbraio sì perché era il tutorial per San Valentino e non credo che riuscirete a vederlo bene perché queste sono immagini che loro hanno estrapolato dal video comunque avevo usato ed è un peccato perché mi era piaciuto molto questo trucco però il video l'ho perso quindi non sono riuscita nemmeno a caricarlo sul canale magari lo rifaccio avevo usato il rosa un rosa Barbie della Kiko un fucsia molto carino anche quello sempre della Kiko e poi, se ricordo bene, avevo sfumato l'ombletto nero qui e poi volevo parlarvi di questo libro sto leggendo Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie questo periodo e lo trovo stupendo è veramente divertente, esilarante io non avevo mai letto il libro avevo visto il cartone poi vabbè, è uscito il film è veramente stupendo è molto 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 bello molto divertente, esilarante fa ridere e mi ha ispirato diciamo mi ha fatto pensare a un bel tutorial che voglio fare assolutamente perché questo libro se lo merita e poi perché non lo so ho una bella idea diciamo sul tutorial e basta gli ho detto tutto se non avete letto questo libro leggetelo perché è veramente divertente e molto rilassante tra l'altro quindi leggetelo, è carino ve lo consiglio non è una review lo ho acquistato io poi devo montare un po' di video che sono già pronti registrati e montati semplicemente devo trovare il tempo e la pazienza di farli caricare da YouTube il che non è così semplice non è così scontato riuscire a caricare un video queste sono due settimane assurde per me perché in due settimane sono concentrate 3.000 cose tutte carinissime domani c'è un incontro per il beauty blogger di una nota azienda cosmetica molto molto carino poi vabbè cerco son prof ho un matrimonio una laurea e 4 compleanni quindi sono proprio strapiena e e basta ho finito veramente vi saluto ciao